Nel video di oggi andrò ad utilizzare un tool che mi permette di analizzare il portafoglio di grossi investitori per vedere alcune delle azioni più interessanti che sono entrati all'interno del suo portafoglio. Se non sapete a cosa mi sto riferendo il sito si chiama Guru Focus e vi consiglio di recuperare questo video dove ne parlo in modo approfondito. Mi piacerebbe fare vari episodi di questo tipo perciò ho deciso di partire con un classicone ovvero Warren Buffett e magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri episodi come questo. Piccola premessa come sempre queste sono mie opinioni e non consigli finanziari inoltre vi sconsiglio di copiare alla lettera questi investimenti perché chiaramente non è detto che le esigenze di una persona con un portafoglio così grande siano le stesse che avete voi. Questo video deve servire solamente come spunto per scoprire qualche azione a cui magari non avevate pensato poi però prima di investire ovviamente informatevi molto bene. Ma detto questo apriamo il sito e iniziamo subito. Ok ho aperto il sito come vedete qui alle mie spalle e la prima azione che noto che è stata aggiunta è Apple. Non dovrei neanche dirla ormai è scontato perché Warren Buffett come sapete è un grande sostenitore di Apple e se guardiamo per esempio questo grafico ricostruito da questo creator vi lascio qui il nome da più di un decennio ormai le sue azioni costituiscono una grandissima parte del suo portafoglio e lo stesso Buffett in molte interviste ha dichiarato che Apple è una delle azioni americane in cui ponterebbe di più in assoluto. C'è davvero poco da dire su questo lo sapevamo tutti comunque l'ho voluta inserire perché è un punto molto interessante. Sono d'accordo sul fatto che sia un'ottima azione e che Apple molto molto probabilmente continuerà a prosperare anche perché ormai hanno creato un modello di business veramente veramente ampio e con delle unicità davvero difficili da sostituire. Invece una nuova aggiunta che prima a quanto pare non c'era è Capital One Financial ovvero una holding bancaria americana molto molto importante specializzata in banche ovviamente ma anche prestiti per auto, case, carte di credito che opera principalmente negli Stati Uniti e comunque lo sappiamo Warren Buffett piace investire molto sul suo territorio. Il suo business è molto solido e la sua azione è sempre stata abbastanza stabile cosa che non succede per molte banche ma se guardiamo gli ultimi 5 anni e questo potrebbe essere il motivo per cui l'ha acquistata il valore della sua azione ha avuto una bella discesa comunque è sceso più o meno tutto il mercato e quindi questo potrebbe essere un buon momento per acquistarla se qualcuno di voi vuole investire nel mercato delle banche americano. Invece un'altra new entry e qui si va un po' più sul particolare di Ageo infatti se prima avevamo due azioni facenti parte di mercati in cui comunque molte persone decidono di investire in questo caso parliamo di una multinazionale inglese specializzata nel campo delle bevande alcoliche tra l'altro molto grande infatti come possiamo vedere tra le 100 aziende con maggiore capitalizzazione della borsa di Londra. Una cosa che mi piace molto di questa azienda, me ne ho già parlato in passato con aziende simili è che nonostante si specializzi in un determinato mercato ovvero quello degli alcolici vende veramente molti prodotti, vi lascio qui qualche immagine, la varietà è davvero ampia e sicuramente molti di questi ne avrete sentito parlare. Questo si traduce dal punto di vista aziendale in un modello di business abbastanza solido e che potrebbe resistere bene ai vari scossoni del mercato. Infatti come vedete la sua azione che se non sbaglio è stata quotata nel 1992 è sempre tendenzialmente salita tra alcuni scossoni negli ultimi anni ma comunque con le crisi che ci sono state direi che è anche normale perciò insomma questa azione se volete fare un investimento un po' particolare diciamo volete investire nello specifico negli alcolici sembrerebbe effettivamente a mio parere molto valida tra l'altro se volete fatemi sapere qui nei commenti se conoscete altre azioni sugli alcolici che è un mercato in cui io non ho mai puntato più di tanto. E infine un'azienda che conoscevo perché invece mi interessa abbastanza il mercato dei semiconduttori è la Taiwan Semiconductor Manufacturing ovvero come possiamo leggere qui il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo anche in questo caso partendo dalle azioni abbastanza longeve quotate nel 2007 e sono sempre salite in modo abbastanza coerente con solo un grosso drawdown ovviamente nel 2022 dove come dicevamo è sceso più o meno tutto il mercato ma come vedete non ha risentito più di tanto né della crisi del 2020 né di quella del 2008 come vedete invece non ha risentito molto né nel 2008 né nel 2020 che comunque sono stati altri due momenti che hanno dato un bello scossone al mercato questo perché appunto il loro business è veramente enorme i loro servizi sono sempre più essenziali perché i semiconduttori ormai sono ovunque intorno a noi solo in questa stanza ne conterò non so un centinaio tra l'altro parliamo di un'azienda con oltre 65.000 dipendenti e che ogni anno esporta decine di miliardi in microprocessori quindi sicuramente uno dei player principali in questo mercato che secondo me come ho già detto in alcuni video in passato in futuro avrà un grosso boost dato che appunto stanno diventando un bene sempre più essenziale quindi queste secondo me erano le azioni più interessanti entrate nel portafoglio di Warren Buffett negli ultimi mesi scusate se ne ho aggiunte poche ma ho poco tempo oggi per registrare questo video quindi in caso fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri episodi di questa serie magari con altri investitori un po' più lunghi come sempre vi ricordo che se non sapete dove investire in azioni qui sotto trovate il link ai broker che utilizzo io in particolar modo quello di DeGiro che vi offrirà i soliti 100 euro gratis dopo l'iscrizione da usare all'interno del loro broker io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto vi do appuntamento come sempre e alla prossima